I Goti. Un popolo germanico tra Scandinavia e Impero Romano. I Goti furono un popolo germanico di origine scandinava che, nel corso del III e IV secolo d.C., si spostò verso sud, entrando in contatto con l'Impero Romano. La loro storia è caratterizzata da due grandi rami, quello dei Visigoti, che si stabilì in Occidente, e quello degli Ostrogoti, che si stabilì in Oriente. Origini. Le origini dei Goti sono incerte. Secondo la tradizione gotica, riportata da Giordane, i Goti discendevano dal dio Odino e si sarebbero originati in Scandinavia, nella regione di Gotland. Nel corso del III secolo d.C., i Goti si divisero in due tribù principali, i Tervingi e gli Ostrogoti. I Tervingi si stabilirono nella regione dei Pazzi, mentre gli Ostrogoti si stabilirono nella Russia meridionale. Migrazioni. Nel IV secolo d.C., i Goti iniziarono a migrare verso sud, in cerca di nuovi territori. Nel 376 d.C., i Tervingi furono sconfitti dagli Unni e furono costretti a chiedere rifugio all'Impero Romano. L'imperatore Valente concesse loro l'ingresso in traccia, ma i Goti si ribellarono e sconfissero l'esercito romano nella battaglia di Adrianopoli, 378 d.C. Visigoti. Dopo la battaglia di Adrianopoli, i Tervingi si divisero in due gruppi. Un gruppo, guidato da Fritigerno, rimase in traccia e fu inglobato nell'Impero Romano. Il secondo gruppo, guidato da Alarico, si diresse verso la penisola iberica, dove fondò un regno visigoto. Ostrogoti. Nel frattempo, gli Ostrogoti si erano stabiliti in Pannonia, dove furono sottomessi dall'imperatore Teodosio I. Nel 451 d.C., gli Ostrogoti parteciparono alla battaglia dei Campi Catalaunici, in cui sconfissero Attila e gli Unni. Nel 493 d.C., gli Ostrogoti conquistarono l'Italia e fondarono un regno ostrogoto, caduta dei regni gotici. I regni gotici furono entrambi rovesciati nel VI secolo d.C. I Visigoti furono sconfitti dai Franchi nella Battaglia di Bouillet, 507 d.C., mentre gli Ostrogoti furono sconfitti dai Bizantini nella Guerra Gotica, 535 a 555 d.C. Influenza. I Goti ebbero una profonda influenza sulla storia dell'Europa. La loro migrazione verso sud contribuì alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Inoltre, la loro cultura influenzò lo sviluppo della cultura europea, in particolare nei campi della lingua, dell'arte e della religione. Lingua. I Goti parlavano una lingua germanica orientale, chiamata gotico. Il gotico è la lingua germanica più antica di cui si abbia una testimonianza scritta. La Bibbia gotica, tradotta da Olfila nel IV secolo d.C., è il documento più importante della lingua gotica. Arte. I Goti svilupparono un'arte originale, caratterizzata da motivi geometrici e animali. L'arte gotica ebbe un'influenza significativa sull'arte medievale europea. Religione. I Goti erano pagani e adoravano una serie di divinità, tra cui Odino, Tore Freya. Nel IV secolo d.C., alcuni Goti si convertirono al cristianesimo. La conversione dei Goti fu un evento importante nella storia del cristianesimo. Conclusione. I Goti furono un popolo importante nella storia dell'Europa. La loro migrazione verso sud contribuì alla caduta dell'impero romano d'Occidente e la loro cultura influenzò lo sviluppo della cultura europea. Grazie a tutti.